Dopo la rinuncia di Fondi alla Serie A Gold è stata assegnata, notizia di quest'oggi, una wild card alla Palamano Trieste che quindi il prossimo anno giocherà nel massimo campionato. Non è una promozione sul campo ma la soddisfazione è grande. Una soddisfazione immensa e indescrivibile. Intanto devo fare anche i complimenti anche a voi per la tempestività perché la notizia non è di oggi ma è di mezz'ora fa. Il comunicato della federazione ha deliberato, la commissione si è riunita oggi hanno approvato la nostra richiesta, accettato la nostra richiesta. Come dicevi giustamente tu Fondi non ha avuto i mezzi per iscriversi quindi da oggi, da adesso, siamo ufficialmente, affronteremo il campionato di massima serie che se posso dire è il campionato che storicamente ci compete. 17 scudetti nella storia della Palamano, 14 squadre in Serie A Gold. Che squadra si allestirà a questo punto perché si stava lavorando sulla seconda serie nazionale quindi bisogna alzare il tiro? Allora, nell'ambito di un progetto di risanamento della società che è iniziato sotto la mia presidenza in ottobre dell'anno scorso, chiaramente noi a piccoli passi stiamo cercando di sistemare un po' tutto di sistemare un po' il pregresso. Chiaramente un occhio di riguardo al campionato lo avevamo già avuto anche se avessimo dovuto partecipare alla Silver stiamo comunque cercando di allestire un gruppo una formazione in grado di affrontarlo ai massimi livelli. Adesso in Serie A Gold, secondo il mio giudizio, uno o due innesti e avremo già una squadra in grado di poter onorare tutti i campi in cui si troverà.